Si intitola Sub-Astract ed è il notissimo album del famoso cantautore inglese Ed Sheran. Uscirà il 5 maggio 2023, un album che veniamo a sapere anche attraverso il web. Si tratta di un album che è nato proprio dal dolore, dai momenti di grande dolore e pathos l'intimo che, diciamo così, Ed o chi per lui vive o ha vissuto. O meglio lui stesso ha vissuto, infatti pensate che un mese sarebbe arricato tra un'ansia molto forte e una depressione piuttosto elevata. A Milano il grande cantatore inglese per l'unica data di presentazione di questo nuovo disco Sub-Astract che è appunto un album in cui egli va a mettere in maniera chiara e nitida quel dolore, quella forte sensazione di malessere che ha purtroppo vissuto andando a perceperla piuttosto bene, diciamo così, in un dolore lancenante, forte, profondo e radicato nel tempo, sott'acqua. Va bene? Vi informo che dal 3 di maggio su Disney Plus ci sarà la dopo serie su lui, sul grande Ed Sheran. Bene, tutto pronto dunque, non mancano tanti giorni. Al 5 di maggio, data quando per l'appunto uscirà Sub-Astract, questo nuovo album che già viene riportato qua sul web, è una novità nel mondo della musica ed è capace di toccare le corde sentimentali del cuore e dell'anima umana. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi per enti di Youtube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Narratori e vediamo commentari.